...quelli difficili li fa, questi... ...è troppo semplice... ...è tornato Vitali? ...e Vitali va a servire il crossary hall... ...bella palla... ...sì, 12 euro... ...il vantaggio... ...biacorosso... ...bisogna...bisogna... ...il signor... ...o di Anosichi... ...pur...non facendoci vedere... ...eccessivamente... ...ha messo insieme... ...ben 12 rim... ...questo è un tre secondi... ...se non è un tre secondi... ...sicuramente sì... ...sei un po' condizionato... ...se lo faccio qua... ...anche se... ...ce la metti tutta... ...però sei condizionato... ...Rosselli per... ...Rosari hall... ...poi il tiro di Vitali... ...che realizza... ...per Vitali... ...sono i primi due punti... ...dova vai? Cosa fai? No, dico... ...mi voglio divertire perché sicuramente... ...Pistoia... ...speriamo che... ...i pesaresi abbiano preso il largo... ...in modo... ...definitivo... ...perché... ...questo doveva... ...e deve succedere... ...per poter ancora... ...sperare... ...Vitali da tre... ...e la mette di Vitali... ...tirerà male... ...e avrà il meccanismo... ...di stare un po'... ...con... ...quattordici ora sono i punti di vantaggio... ...diventano 13... ...perché... ...3, 50... ...Tarner sbaglia... ...a rimbalzo di... ...Linart... ...quindi Vitali... ...e l'errore... ...no... ...il canestro di... ...Pelce... ...meno 11... ...recupera... ...Venezia... ...7, 6, 5, 9... ...5 minuti e 56... ...ormai il risultato di Pesaro... ...se non dovessero succedere terremoti... ...dovrebbe essere...